Musica Brava Ambra, è stata proprio brava l'esame di maturità, soprattutto in matematica e fisica. Grazie, vi fa molto piacere. Cosa farai dopo all'università? Beh... A differenza di molte mie cotanee, fin da piccola mi sono sempre piaciute le materie scientifiche, come la matematica. Questa mia passione mi ha portato fin da subito a scontrarmi con molti pregiudizi. E cosa vuoi fare da grande? Matematica. Perché matematica? Perché mi piace. Ma è da maschi. Non è vero, puoi sanno? Scene come questa si sono ripetute svariate volte durante gli anni. Avete già deciso cosa fare una volta finita la scuola? A me piacerebbe diventare un ingegnere. Sì, no, io preferirei fare giurisprudenza. Bello, a me invece piacerebbe fare pedagogia perché magari diventerà maestra. E invece? Ma non saprei, a me piacerebbe lavorare nell'ambito della fisica. Non sei sicura? Non serve mai io qualcosa di pedato per una ragazza? E non è finita qui. Allora, credo che questo cavo vada messo qua. No, ferma. Fammi fare a me. Non è roba da femmine questa. No, guarda, ma in realtà va messo qua. Cosa fai dopo? All'università? Beh, non è così. Lei è sposata. Ha intenzione di... Se ti rifai, sei abbastanza intelligente. Vammi a fan panino, vai. Non diventerei mai ingegnere. Non diventerei mai ingegnere. Ah, fantastica. Sei una donna, non puoi fare puliti. Sei una donna, non puoi fare puliti. L'astrofisica. Voi cosa vorreste fare? Statistica. Ingegneria gestionale. Ingegneria meccanica. Geologia. Biotecnologie. Scienze della comunicazione. Corea dell'arte. Scienze sociali. Beni culturali. Scienze della formazione primaria. Lingue orientali. Scienze del turismo. Filologia. Lettere. Plasino. Pedagogia. Psicologia. Storia. Design. Storia dell'arte. Filosofia. Scienze politiche. Disponente. Astronomia. Ingegneria civile. Ingegneria elettronica. Biologia. Ingegneria biometrica. Informatica. Ingegneria chimica. Chimica industriale. Fisica. Informatica. Chimica. Medicina. Ingegneria aerospaziale. Ingegneria. I coldi. Di, Covid. Comput residue. Lei è sposata? Ha intenzione di avere figli? Cosa credi di fare? Sei abbastanza intelligente Non diventerai mai ingegnere, fai l'estetista Mi serve qualcuno che fischi, l'ho già detto Ah fantastica Perché fai matematica? Ma è da moschi? 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 Ma è da moschi?